Ciao a tutti ragazzi e eccoci tornati con un nuovo video Allora questo è un video unboxing dove spacchetteremo non uno, non due, non tre, ma quattro pacchi Dovevano essere cinque in realtà, però l'altro ancora deve arrivare, forse arriva domani o addirittura lunedì, cioè settimana prossima Quindi siccome non voglio aspettare e siccome già ho quattro pacchi da farvi vedere Allora ho detto no, intanto apriamo questi e poi l'altro pacco lo aprirò alla veloce e lo useremo nel frattempo Abbiamo Astra, Trio Makeup, un pacco da Amazon e un super pacco di Hello Body Togliamoci prima l'ordine che non è beauty così lo facciamo subito e basta Nel pacco di Amazon c'erano due cose per il Mac Ho ordinato una custodia esterna, una borsa diciamo per il PC e poi anche la cover proprio per il Macbook per non rovinarlo Questa è la custodia esterna, quindi la borsa per il computer, molto carina così ce l'ho di tanti altri colori Anche a rosa ma non mi piaceva tanto Questa mi sembra quella più bella, più seria, non lo so, è nera però a me sembra nero grigio scuro in realtà Con il manico così Che si allarga anche E il logo questo Ha un sacco di tasche, questa è la tasca principale, dentro è morbidissima, sembra non lo so, di accarezzare un peluche Ma oltre alla tasca principale abbiamo una tasca qui con la zip E un'altra qua sopra Tipo una zip nascosta diciamo E abbiamo un'ulteriore tasca qua dietro Però senza zip Ordine super approvato Questa è venuta a 18,99 se non ricordo male L'altro acquisto appunto è la protezione proprio per il Macbook C'è scritto che è nero però a me sembra un grigio scuro, quasi nero, non lo so Comunque mi piace che non è totalmente opaca e si vede leggermente la mela L'altra parte insomma della protezione Questa è venuta a 25,99 Però non mi hanno dato solo questo Mi hanno dato anche la protezione per la tastiera Ben due protezioni per la tastiera Una già l'ho messa e una è questa qui Oltre a questo mi hanno dato anche i piedini di ricambio per la cover E poi anche queste Che non le ho ancora provate Non so se funzionano però sono delle chiavette diciamo Degli adattatori per la chiavetta USB Perché il mio Macbook o comunque molti Macbook ormai non hanno più l'entrata USB Ma hanno quella di tipo C Li devo provare ma comunque è bello che li hanno comunque dati Solto a Amazon possiamo concentrarci su tutto il resto Mi ispira a questo super mega pacco di Hello Body Qua abbiamo tutti i vari prodotti Rose Velvet è un fluido viso che aiuta le pelli miste a attenuare appunto il sebo in eccesso Rose Divine Siero Queste salviettine per portarle comodamente in borsa Sempre per il sebo Quindi quando si sta fuori c'è caldo Comunque la pelle il sebo inizia a fuoriuscire Si prendono queste salviettine e si passano sulla zona T principalmente E si ritorna alla normalità Poi abbiamo Rose SOS Questo qui è un prodotto per le imperfezioni E qui di imperfezioni ne ho A parte questa mosca Vabbè Di imperfezioni ne ho tipo tutti questi brufolettini qua E qua sulle tempie non so perché ne ho di più E quindi questo è proprio per attenuare le imperfezioni Per non farle proprio venire Rose Effect Scrab Viso E questo mi serviva perché ne avevo uno del 15-18 E che ormai non utilizzavo più Ve l'ho fatto vedere anche nel decluttering E infatti l'ho dovuto togliere E mi serviva proprio uno scrub E poi specialmente che è per pelli miste va benissimo Rose Breeze Se si dice così spero di sì Questo è un tonico per il viso Rose Refine Che è una maschera all'argilla L'argilla? Aspettate non lo ricordo Al carbone attivo e argilla purificante Questi sono tutti i prodotti del set Che ho preso Il set più grande che è quello da 149 euro Però poi l'ho preso comunque scontato E poi passiamo agli altri due prodotti E poi passiamo agli altri due E poi passiamo agli altri due prodotti E della stanchezza non so parlare Che non c'entrano con appunto questo set Ovvero un set di maschere E come ultimo prodotto Coco Kiss Che è uno scrub per le labbra Quale apriamo per primo? Ora peccato che voi non mi potete subito Dare una risposta Quindi dovrò scegliere Io Anzi no Sceglierà il mio ragazzo che è qua Quale apro? Clio o Astra? Più che non sono della stessa grandezza Solo che uno è costato 121 euro E l'altro 27 Quale? Astra? Vero? Ok allora Clio ce la teniamo per dopo Prima l'ho aperto per accertarmi Che tutto è al suo posto E ho trovato anche una bella sorpresa Ora ve la faccio vedere Uh mi hanno lasciato un codice sconto Come le vere influenze Vabbè non è una collaborazione Comunque Codice sconto del 10% Da utilizzare sul tuo prossimo acquisto Valido fino al 31-12-2021 E utilizzabile solo una volta per account Ah solo una volta per account Quindi più persone lo possono utilizzare E allora ve lo condivido Se volete acquistare da Astra Potete approfittare di questo codice sconto Tanto io non credo di comprare Quindi comprate voi Fatemi sapere cosa acquisterete Ah e poi mi hanno dato Non so perché Anche un igienizzante Per le mani Partiamo così subito Proprio subito Dal prodotto bello Potevo ragazzi Non prendere questa palette La Mystic Horizon Palette Potevo non prenderla No Dovevo per forza prenderla Guardate che bella Ma guardate Che bella Ci stiamo rendendo conto Ovviamente E prossimamente La proveremo insieme Cioè Che ve lo dico a fare Però Sì La prima cosa che ho notato È che c'era appunto Non ho letto subito il bigliettino Quando prima ho controllato Ma avevo notato Che c'era una cosa in più E che c'era scritto appunto Omaggio Ed è appunto Questo rossetto Sempre così Bello Ed è molto bello Rosa Che mi piace Non è neanche un rosa Di quelli proprio Sparaflescianti È un bel rosa E dentro Praticamente È così È più chiaro Perché poi farà Quell'effetto Un po' sfumato Odore ovviamente Buonissimo E lo proveremo Ora perché ho messo Questo rossetto così Poi lo proveremo Comunque grazie Grazie Bell'omaggio Altra tinta Ho preso questa tinta labbra Che già ne ho due Però Ho voluto prendere Questa qua Un pochino più scura Numero 23 Sunset Love Con acido Ialuronico Poi ho preso Il nuovo mascara Che è uscito Proprio qualche giorno fa Si può dire Universal Volume Mascara Waterproof Mi piace il packaging A blu Così però Ovviamente è nero E niente Non lo vado ad aprire ora Poi lo proveremo Comunque Questo eyeliner In penna Che io ormai Sto adorando Gli eyeliner in penna E come ultimo prodotto Il lip oil Di Astra Questo qui Di Pure Beauty Che tutti ne parlano Stra stra bene E Devo per forza Prenderlo Proprio Ma veramente Tutti ne parlano Troppo bene E quindi Ho detto No vabbè Lo devo Lo devo per forza Provare Ma adesso ragazzi Ragazzi Passiamo a Clio Makeup Anche qui Mi è venuto in aiuto Il mio ragazzo Che mi ha Gentilmente Omaggiato Della palette Che ho preso Già ve l'ho spoilerata Ma Non so fare le cose io Intanto ho preso L'Ultra Balm Che è una maschera Labbra Che dovrebbe Rendere le labbra Proprio morbidissime Ne ho ordinati 6 5 più 1 Gratis E con 32 euro Compri tutti questi Ovviamente Io Non potevo Non prendere Almeno una tinta E quindi Ho preso Questa qui È Limited Edition Non so perché L'anno scorso Non l'ho presa E meno male Che ancora Non era finita Ed è della collezione D'Atelizia Dell'anno scorso Santa Claus È questo rosso Metallizzato Che ovviamente È super super Natalizio Ho preso Il fondotinta Di Clio Il numero 04 Come il correttore Che bello È il mio colore? Chi lo sa? Spero di sì La palette Che vi ho spoilerato Prima Era Questa La Beauty Love Questo è il pec Primario Beauty Love Che bella E dentro È ancora più bella Molto molto bella Ve lo faccio vedere meglio E quindi questi sono Gli acquisti Folli Folli Di questo Black Friday 2021 Ovviamente non sono tutti Perché ancora aspetto Nabla Dove lì ci sono Altre due palette Io quest'anno Mi sono andata proprio Alla pazza Pazza gioia Ho comprato Di tutto E di più E penso che Basta Ho finito qua Anche perché Tutti questi acquisti Fungono da Auto regali Di Natale Quindi io Per me Per me stessa Ho già dato E quindi nulla Ragazzi I prodotti Sono finiti qui E il video Finisce pure qua Spero che vi sia piaciuto Questo super super Unboxing Penso di non aver mai Fatto un unboxing Così grande Se questo video Vi è piaciuto Ragazzi Fatemelo sapere Giù nei commenti Fatemi sapere Qual è il prodotto Che vi è piaciuto di più Quale prodotto Vi ispira di più Così poi Proveremo comunque Tutto Nei prossimi video Se non siete ancora iscritti Al mio canale Iscrivetevi perché mi farebbe Super super piacere Se volete seguirmi Anche sugli altri miei social Mi trovate su Instagram E su TikTok Con il link Namedidina.resino Scritto piccolo Ma trovate tutto giù In info box Io ragazzi Vi saluto Vi mando un grandissimo Un bacio E noi ci vedremo Ai prossimi video Ciao